Shalom, shalom, shalom. Miei saluti alla Casa d'Israele, coloro che cercano con sincerità la verità. E prima di iniziare questa lezione vorrei dare tutte le mie adorazioni e tutto dovuto al Padre, Yahawa, nel nome di suo figlio, Yahawa Shai. Che voi da ignoranza chiamate Gesù. E poi vorrei dare i miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone per avermi insegnato questa verità qui. Questa lezione sarebbe una sorta di continuazione a quello che ho fatto ieri, i santi, chi sono i santi. Beh, inizio leggendo dal libro di Genesi 25 che sono già qui. Comunque oggi impareremo chi sono i malvagi perché il Padre ha creato i santi e i malvagi. Ok? Chi sono questi malvagi? Chi sono? Ora andiamo a vedere dove è iniziato tutto. Qui, sul libro di Genesi 25, iniziamo a leggere dal versetto 22. Ok? Allora, io consiglio a tutti di andare a leggere dall'inizio di questo capitolo così si capisce il contesto di tutto. Questa è la moglie. La moglie di Abramo ok? Che era incinta si chiamava Rebecca. Rebecca era incinta e prima di questo il Padre aveva già promesso a Abramo che da lui dai suoi progeni avrebbe riempito la terra. Ci siamo? Allora quando Rebecca era incinta si si anzi leggiamo dal versetto 22 qui che dice i bambini si urtavano nel suo grembo ed ella disse se così è perché vivo perché i bambini la davano proprio dolori e problemi no? Quando era incinta e andò a consultare il Signore il Signore Yahweh disse due nazioni sono nel tuo grembo e due popoli separati usciranno dal tuo seno uno dei due popoli sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà il minore quindi prendiamo un otto due nazioni ok un popolo sarà più forte dell'altro ok sì poi andiamo a leggere dal versetto 25 anzi continuiamo a leggere da 24 quando venne per lei il tempo di pattorire ecco che lei aveva due gemelli nel grembo il primo il primo che nacque era rosso e peloso come un mantello di pelo così fu chiamato Esau ok prendete noto di questo perché c'è la descrizione del primo ok il primo che nacque era rosso e andiamo a vedere ci hanno dato la descrizione perché a quell'epoca coloro che vivevano là dove erano almeno anzi il mondo tutti avevano la melanina sulla pelle erano di gente scura e qui vado a farvi vedere e hanno messo proprio la descrizione del suo colore qui perché gli sembrava strano non erano abituati a vedere ad avere i bambini di questo colore rosso e andiamo a vedere qui che ho messo a parte delle foto guardiamo la foto di questo bambino qui che descrive bene il genese 25-25 che abbiamo appena letto che il primo è venuto rosso avete visto questo sarebbe un classico bambino caucaso caucaso ok caucaso perciò vi ricordo di nuovo non esiste un uomo bianco e non esiste un uomo nero esiste l'uomo rosso e l'uomo marrone che il colore bianco è lo sfondo di questa scritta qua e nessuno è così purtroppo e nessuno è anche così perciò esiste l'uomo rosso e l'uomo marrone ok questa è la descrizione di quel bambino là ok e lui era Esau ed è il padre dei progeni dei caucaso ok caucaso è una zona trovata le montagne di caucaso poi ne parleremo anche di questo torniamo alla lettura dunque ora andiamo a leggere da versetto 27 sempre dal libro di genesi da versetto 41 che si trova qui è successo qualcosa ok come è stato previsto dalla prima della nascita che il padre Yahawa diceva Rebecca che il grande servirà il piccolo ok e uno sarà più forte dell'altro perciò sono cose pianificate fin dall'inizio Esau non era uno di casa invece anzi suo fratello si chiamava Giacobbe è quello che non abbiamo letto prima versetto 25 e qui 22 ecco qui il primo che nacque era rosso e peloso come un mantello di pelo così fu chiamato Esau dopo nacque suo fratello con la mano che teneva il calcagno di Esau e fu chiamato Giacobbe si sono nati che Giacobbe teneva ecco una descrizione di cosa è successo questo è Giacobbe e questo sarebbe Esau che è uscito rosso e lui è uscito normale marrone come tutti gli altri perciò vedete che non esiste il colore bianco e il colore nero tutte queste sono le menzogne di Esau che dopo ha messo tutte queste descrizioni qua era questo che è successo Giacobbe ha tenuto il suo calcagno il suo piede e questo era un gran segno per dire per dire la visione che è stato dato prima della nascita ok leggiamo un altro po' qui da versetto 27 i due bambini crebbero Esau divenne un esperto cacciatore un uomo di campagna ok questi sono punti molto importanti se guardate e Giacobbe un uomo tranquillo che se ne stava nelle tende Isacco amava Esau perché la cacciagione era di suo gusto ok questo è Isacco il padre di Esau Esau era un cacciatore e non stava mai a casa e questo vi fa capire la differenza tra i due uno stava a casa chi sta a casa impara dai genitori Giacobbe stava a casa era un uomo tranquillo aveva la tranquillità per imparare ok invece Esau non lo era non aveva questa qualità lui era uno che spargeva sangue era un cacciatore piaceva gli armi ok invece l'altro suo fratello Giacobbe era tranquillo ed è tutto fatto così dal padre ok poi è successo qualcosa questo video non lo volevo tenere lungo ma vediamo come andrà a finire perché devo far capire bene ormentre Giacobbe faceva cuocere una minestra Esau sopraggiunse dai campi tutto stanco Esau dice a Giacobbe dammi per favore da mangiare un po' di questa minestra rossa ok e alla fine se andate a guardare la parola radice per questa minestra che se voglio fare così faccio così scusatemi 25 ok andiamo a vedere scusatemi che è in inglese ma da qui riesco a vedere la radice delle parole ok la parola radice nazid 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 ok dice che è una potrebbe essere un potage ok e potrebbe essere anche la zuppa la minestra ok perciò non è non è proprio una minestra sì ma potrebbe anche significare una minestra ecco perché è molto importante andare a vedere le radice delle parole dalle ricerche più profonde che ho fatto erano le lenticche le lenticche rosse erano ok ecco ecco infatti i caucasi piace mangiare le lenticche rosse esau ma quello è è così l'ho detto così non c'entra molto mentre mentre Giacobbe faceva cuocere una minestra Esau sopraggiunse da capo tutto stanco Esau disse a Giacobbe dammi per favore da mangiare un po' di questa minestra rossa la minestra era rossa ok perciò erano le lenticche rosse perché sono stanco perciò fu chiamato Edom lui si chiama Edom ok e se andiamo a vedere la parola radice è Edom Edom no la parola radice Edom è Edom ok come è scritto qui bene nella nella traduzione giusta sarebbe Adawam Adawam e Adawam vuol dire rosso ok Adawam vuol dire rosso ecco perché il suo nome è diventato Edom perché era l'uomo rosso come vediamo qui e come vediamo da un'altra foto che vi faccio vedere qui in poche parole questi uomini che vediamo vedete sono uomini rossi non sono bianchi questo è il colore bianco e questo colore fa parte della famiglia del colore rosso perciò non sono bianchi come si sono dichiarati ok questi sono uomini rossi ok un'ultima foto ecco qui questa foto che dice bene che è rosso qui e questo è bianco vedete torniamo alla lettura Giacobbe 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 gli rispose il padre Yahweh di minestra che avete visto ecco qui la parola è scritta perciò ero giusto quello che dicevo di lentiche e se andate a vedere lentiche ce ne sono diversi vediamo scriviamo lentiche si scrive così rossi rosse ok immagini ecco qui vedete si trova anche online queste sono delle lentiche rosse e da quello che capisco c'è questa tradizione qui in Italia che si dice che chi mangia le lentiche all'inizio dell'anno è un po' tassoldi ok beh almeno dalle parti che vivo qui in Veneto questo per farvi capire che non è proprio non era proprio per quello ma era proprio per questo fatto qua perché i padri dei caucasi piaceva molto alle lentiche ok e li mangiò scusatemi ho perso e li mangiò e beve poi si alzò e se ne andò fu in questo modo che Esau disprezzò la prima genitura lui ha disprezzato la sua prima genitura facendo questo ok ora andiamo a leggere da capitolo 27 versetto 41 che si legge da qui Esau odiava Giacobbe a causa della benedizione data lì da suo padre perché poi che cosa è successo mio padre ha messo in scena tutto comunque perché c'è stata ricordatevi sempre la visione che è stata data a Rebecca prima della nascita di questi due bambini ed è finita che Giacobbe ha preso la benedizione che doveva prendere Esau come primo figlio ok e comunque andate a leggere questa cosa qua che è molto importante se leggete tutto tutto dal 25 là in giù per capire cosa è successo tra i due e tra l'altro tra l'altro qui si legge sempre da 27 qui comunque il punto che volevo fare è che Esau poi da quel giorno ha odiato suo fratello anzi lo vado a leggere 41 Esau odiava Giacobbe a causa della benedizione data lì da suo padre e disse in cuor suo i giorni del luto di mio padre si avvicinano allora ucciderò mio fratello Giacobbe ok perciò da qui quell'odio è nato tra queste due nazioni ricordatevi sono due nazioni ok sono due nazioni dalla visione che gli è stato dato a Rebecca prima della nascita dei due ok queste due nazioni in poi esau che l'uomo rosso ha odiato Giacobbe e ha detto che appena moriva suo padre avrebbe ucciso suo fratello Giacobbe ok cerco un altro un altro immagine qui ok comunque da qui è nata tutto tutto l'odio e proprio tutto tutto questo odio fino al giorno d'oggi ecco perché i bianchi quelli i così chiamati bianchi che sono rossi hanno la tendenza di essere razzisti contro coloro che sono di carnagioni scure colore scuro ok soprattutto i negri ok i figli di giuda ok i progeni di giuda ok hanno la tendenza di avere questo razzismo che non finirà mai ok anzi attraverso il razzismo questi sono i tempi i tempi buio negli Stati Uniti vedete questa foto qua qui sono appesi due negri uno già ucciso per terra e guardate se andate online ce ne sono un sacco di foto di questo genere qua i bianchi sono tutti felici a vedere guarda addirittura questo che ride ammazzavano questa gente li hanno preso in schiavitù ok questo è loro fratello Giacobbe ok da qui riuscite a capire da dove c'è questo odio ok e questo odio non 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 finisce là che è molto profonda andiamo poi a leggere dal capitolo 36 ok lo scopo di questo video è per farvi capire chi è Esau oggi chi è proprio Esau oggi ok e leggo dal versetto 8 versetto 8 dice così Esau abitò sulla montagna di Sier Esau è Edom ok e se andate a vedere il significato della parola caucaso ok vuol dire uno che vive in montagna uno che vive nelle caverne ok è il significato di caucaso le montagne di caucaso stovano in russia che poi è diventato l'abitazione di Esau ok quando sono stati distrutti anzi vado con la cronologia qui si dice così 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 Esau abitò sulla montagna di Sier ricordatevi questa parola Sier Esau è Edom ok ora andiamo a vedere qual è questa montagna di Sier vedete qui se scrivete su google mountain Sier mont Sier la montagna di Sier ok vi da tutte queste immagini di Sier ok queste sono le immagini dell'abitazione di Esau la sua prima abitazione ok vedete tutte queste cose qua la costruzione sua come erano ok abbiate in mente guardate avete visto questo è la prima casa di Esau e ora vi faccio vedere delle foto che ho messo a parte c'è una foto in particolare ecco qui questo è la prima abitazione di Esau Sier ok e vi faccio vedere qualcosa ecco qui questa foto è evidente che loro sono poi andati a conquistare questi paesi ovunque Esau va lui lascia il suo segno il suo segno è la sua architettura perciò questa architettura la vedete dappertutto in Europa in Grecia in Italia anche poi è andato fino in America questa è America Washington ok ci dovrebbe essere un'altra un'altra immagine ma non so dove ce l'ho qui andiamo su Google Monsier è un...